Chi meglio di Valerio Morini riesce a unire il turismo low cost con la pesca a spingi? Ho la voglia di pescare! In giro da solo da un capo all'altro del mondo Ho conquistato anche l'America! Lo aspettano luoghi straordinari e pesci maestosi È enormi! Last Minnow Tour, quarta stagione Dal 6 febbraio, ogni sabato alle 21 su Pesca, canale 236 Italian is better